Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Francesco Totti ed Ilari Blasi. È ritorno di fiamma? I presunti messaggi a distanza infiammano la fantasia dei fan. Negli ultimi giorni l'ex coppia Aurea è tornata a dominare le colonnine rosa dei rotocalchi di gossip. Una volta assegnata la contesa villa dell'Euro e gli inflazionati Rolex, la conduttrice capitolina ha recentemente riconsegnato a Francesco Totti le chiavi del centro sportivo Longarina, ed il gesto conciliante sembra suggerire una pacificazione momentanea. Per di più, mentre l'ex calciatore si gode le vacanze negli States a fianco dei figli e della nuova partner Noemi Bocchi, quest'ultimo ha effettuato una scelta piuttosto opinabile per commemorare la vittoria della nazionale italiana nel 2006. Il 9 luglio dello stesso anno, in effetti, l'Italia aveva trionfato ai mondiali in Germania. E Francesco Totti ha condiviso con i followers l'anniversario della vittoria con uno scatto assai emblematico. Tra le sue Instagram stories è spiccata infatti l'iconica foto del «pupone». Con il pollice in bocca. Gesto da sempre associato ad Ilari Blasi. Le dichiarazioni di Francesco Totti fanno scalpore. Ovviamente la foto a Marcord non conferma alcuna illazione in merito ad un ipotetico riavvicinamento tra i due ex. Tuttavia la scelta dello scatto ha fomentato parecchie illazioni in rete. All'epoca dei suoi iconici gol. Francesco Totti aveva precisato che la destinataria di quel gesto era proprio la bionda showgirl. Forse non tutti sanno che il gesto del «ciuccio» non è dedicato ai miei figli, ma a Ilari, che lo fa ogni volta che si concentra. È una dedica speciale alla donna che amo. E alla madre dei miei figli. A distanza da qualche ora dalla sua iniziativa. Anche Ilari Blasi sembra aver indirizzato un messaggio in codice all'ex marito. E ha scelto di farlo a sua volta con una foto. La conduttrice è volata in Brasile per la meritata pausa estiva a fianco dell'imprenditore Bastian Muller. Ormai solidamente insediato nella sua routine quotidiana. La sua recente storia di Instagram, però, ha scatenato una ridda di illazioni. E l'esperta di gossip Dejanira Marzano ha ben presto ricevuto delle segnalazioni ben precise. Scambio di dediche tra Francesco Totti ed Ilari Blasi? Lo scatto ritrae dall'alto la conduttrice capitolina. Strizzata in un bikini mozzafiato verde mimetico e sdraiata comodamente su un lettino in spiaggia. Il braccio sollevato sopra la testa evidenzia un dettaglio assai significativo. Ovvero il tatuaggio che Ilari avrebbe impresso sulla propria pelle assieme all'ex marito. La fonte anonima ha riferito a Dejanira Marzano. Deja ho notato. Totti ha messo la foto col dito in bocca dedicata ad Ilari. E lei posta questa foto dove si nota molto bene il tatuaggio sul braccio che fece con Totti. Si tatuarono i loro nomi. L'esperta di gossip ha quindi concluso. Si stuzzicano? Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.